Vi ricordate quando vi parlavo del distanziamento sociale negli animali? Qua vi lascio il video. Vi parlavo dei mandrilli che attuavano il grooming e che nel caso di un'infezione il grooming non veniva dato al conspecifico. Quindi non veniva effettuato lo spulciarsi con un soggetto infetto. Nei gorilla la femmina poteva abbandonare il proprio gruppo se il maschio dominante, il silverback, era affetto da qualche patologia o si comportava in maniera tale da far sembrare che l'animale potesse avere una patologia. Questi atteggiamenti hanno come base un senso, una sensazione più che un senso, un qualcosa che possediamo anche noi esseri umani, noi Homo sapiens. Questo è il senso del disgusto. Questo è il senso del disgusto. Ed è, oggi vedremo, uno dei più importanti che noi possediamo. Prima di continuare vi ricordo come sempre che potete mettere un bel mi piace o iscrivervi qui sotto al canale e in descrizione potrete trovare il link all'affiliazione Amazon per acquistare libri o prodotti Amazon e una piccolissima percentuale arriverà a me. Il senso del disgusto è tanto, tanto sottovalutato. È qualcosa di aberrante, qualcosa da eliminare, qualcosa che ci intralcia. Perché è fastidioso avere la percezione di qualcosa di brutto. Ci avete mai pensato di dire magari... Ma quanto sarebbe bello poter non sentire disgusto? Va bene, vediamo qualcosa da lontano che non ci tocca, non ci tange. Perché dobbiamo disgustarci questa brutta sensazione di maro in bocca? Meglio non averne questo tipo di sensazioni sgradevoli. E invece è, quanto di più importante, è vitale. Sia per le specie animali, sia per l'uomo. E lo era ancora di più per i primi esseri umani. Non che adesso non sia importante, tuttora, come vedremo in questo video, è fondamentale. Ma per i primi umani, per le prime specie umane, era vitale. Dicevamo appunto che il mandrillo si allontana e non l'atto del grooming ad un esemplare infetto. Perché questo avviene? Appunto, prova del disgusto. Un disgusto che magari non è proprio con l'accezione che diamo noi, ma un qualcosa di fastidioso, di non piacevole. Magari un odore che non lo invita al grooming. Quindi allo spulciarsi. Lo stesso dicevamo della femmina del gorilla di pianura. Che vedendo il maschio magari con una dermatite o con dei problemi di salute, non prova più interesse e, anzi, pensa che, visto qualcosa di sgradevole, che quell'esemplare non sia nemmeno efficace nel riuscire a mantenere saldo e coeso il gruppo, e quindi a difendere le femmine, i cuccioli e tutto il gruppo in generale. Qualcosa di simile avviene anche nell'essere umano. Avveniva nei primi esseri umani quando, nell'assaggiare qualcosa di nuovo che non si conosceva, si aveva paura, si aveva una sorta di disagio, quella sensazione di dire ma perché qualcosa di nuovo, la paura verso ciò che non si conosce, e che spesso era funzionale, perché non tutto ciò che si trovava in giro era commestibile. Ovviamente era importante anche avere un po' di coraggio in più perché altrimenti non c'è progresso. Però, in linea di massima, il disgusto, magari per assaggiare qualcosa e provare una brutta sensazione, molto probabilmente ci richiama qualcosa di pericoloso, qualcosa di dannoso per la nostra salute. Troviamo sgradevole l'odore delle deiezioni, delle feci, di ciò che viene espulso, perché potenzialmente è vettore di patologie, di malattie, di qualcosa di non piacevole comunque. Lo stesso noi, esseri umani, ce ne rendiamo conto quando vediamo qualcuno scaccolarsi o starnutire senza mettere la mano davanti alla bocca o sudare in maniera proprio copiosa. Sono tutte cose che magari ci danno una... ci provocano disgusto. La puzza stessa, se un'altra persona che ci sta accanto, magari in treno o nell'autobus, puzza in maniera sconsiderata. Noi lo associamo a... Oh, che villico quest'uomo, questa donna, che persona villica. Ancestralmente noi associamo questa cosa ha una mancanza di igiene e quindi ha un potenziale pericolosità nel stare accanto a qualcuno che, non avendo igiene, può portare delle malattie. Questo è un bel discorso, è molto interessante e molto figo. Fa riflettere su quanto il senso del disgusto, così tanto bistrattato, abbia una sua funzione biologica molto molto importante, quasi... anzi, non quasi, fondamentale a tutti gli effetti. Il senso del disgusto non è qualcosa di solo ed esclusivamente, innato in noi. Molto spesso, una buonissima parte, se non la maggior parte, del disgusto che proviamo per qualcosa si crea, si forma, si definisce con la crescita, con l'esperienza, con l'ambiente culturale nel quale siamo immersi. Uno studio portato avanti dall'Università di Toronto ha analizzato le espressioni facciali relative al senso del disgusto tramite un'elettromiografia, quindi lo studio del movimento dei muscoli. E facendo vedere a delle persone immagini disgustose che, appunto, facevano schifo solo a guardarle, analizzavano e registravano il movimento di certi muscoli piuttosto che di altri. Hanno provato a fare la stessa cosa facendo un giochino. Mettendo due persone vicine e dando loro 10 euro, dando a uno di questi, anzi, 10 euro, quello che possedeva i soldi doveva decidere, a sua volta, doveva decidere soltanto lui come spartire i 10 euro tra sé e la persona che gli stava accanto. E la persona che gli stava accanto, appunto, non aveva la possibilità di replicare, se non di dire sì o no. Quindi accettare o rifiutare l'offerta che il primo faceva al secondo. Nonostante la maggior parte delle volte si arrivasse a un 50 e 50, alla possibilità di tenersi 9 dollari e darne uno, la risposta di chi riceveva un dollaro e quindi era ovviamente no, non c'era bisogno nemmeno di dirlo, l'espressione che faceva era la stessa identica con il movimento uguale, preciso, di quello di un disgusto causato dalla visione di qualcosa di orribile, di schifoso. Quindi, questo cosa ha portato? Questa ricerca? Cosa ha visto? Cosa ha notato? Si è capito che quindi il disgusto non è soltanto qualcosa di legato ai sensi e a una sensazione nel toccare qualcosa, nel vedere qualcosa, nell'annusare, ma anche un disgusto morale, un disgusto potremmo dire etico, un disgusto di giustizia. E a me è capitato di leggere in un giornale una notizia scioccante di un genocidio, di un pazzo che ha ucciso tanta gente o di qualcosa di macabro fatto da una persona, spesso la nostra risposta è proprio una faccia riconduggibile al disgusto. Noi proviamo disgusto verso chi ha compiuto tale gesto o comunque verso la scena che si è andata a creare, ma non eravamo lì, non eravamo presenti. Anche quando vediamo in televisione delle scene sbagliate, di cose non giuste, scorrette, che riteniamo nella nostra visione ovviamente soggettiva magari anche, in relativa all'ambito culturale in cui siamo cresciuti, sbagliata, noi orridiamo, inorridiamo, ma come se ci facesse schifo a tutti gli effetti quello che stiamo vedendo. Come se fosse puzzolente quella persona quando in verità è dietro uno schermo e quindi non possiamo saperlo, ma riconduciamo lo stesso senso, la stessa sensazione e effettuiamo lo stesso, la stessa mimica facciale, riconduce, il nostro cervello riconduce alla stessa sensazione. Quando ci fanno delle proposte di lavoro, ad esempio, sottopagate, e noi diciamo ma che schifo di lavoro, ma no, grazie, e ce ne andiamo disgustati, infastiditi, indignati, ecco. Il senso del disgusto ci aiuta, ci preserva da quelle situazioni scomode che ci porterebbero probabilmente in una direzione sbagliata. Ma c'è un enormissimo ma da fare, un però grande quanto una casa, che è relativo all'ambiente culturale in cui viviamo. Questo perché c'è una differenza da porre tra gli ominidi, i primi uomini, diciamo così, che interagivano con l'ambiente circostante, che ritenevano sbagliato un comportamento o un altro, e noi, Homo sapiens del ventunesimo secolo, vogliamo dire così, che siamo molto più avanti, non è per male, dei primi uomini. Non siamo più in pericolo di vita costantemente, non siamo più alle prese con un predatore o con bacche velenose, non dobbiamo più andare nella foresta a procacciarci il cibo, spaventati da ciò che ci può andare di fronte. Quindi non veniamo più nella giungla, non abbiamo più bisogno di associare un qualcosa di disgustoso a qualcosa di pericoloso per forza. Ecco, infatti, molta gente ha sviluppato una specie di interesse, anzi, nei confronti di qualcosa di disgustoso, un qualcosa di opposto al disgusto, un piacere nel vedere ciò che altri invece vedono con orrore. Questo perché noi abbiamo la capacità di andare oltre, riuscendo a non, logicamente, a non dare il peso di un pericolo a quel qualcosa che a noi fa schifo, riusciamo a vederlo dall'esterno e ad apprezzarne anche a volte dei dati positivi. Questo dovrebbe farvi riflettere. Quando vediamo qualcuno vestito in un modo che riteniamo osceno, gli non ridiamo a volte, non ha molto senso questa cosa. Qual è il problema? Qual è il rischio? Magari una volta vedere un animale comportarsi in maniera scorretta era un pericolo anche per noi perché metteva in pericolo il gruppo di cui facevamo parte, si ci esponeva i predatori, ma qui non abbiamo nessun predatore. Non dobbiamo fare una caccia di gruppo in cui tutti dobbiamo essere collaborativi e non per forza comportarci in un modo preciso. Noi abbiamo la possibilità e anche il diritto ormai di comportarci nella maniera che più ci aggrada, nel vestirci nella maniera che più ci aggrada, nell'amare qualcuno nel professare una religione differenti senza dover per forza chiedere il permesso a qualcuno al di fuori della nostra cerchia. Anzi, al di fuori della nostra stessa persona. Appunto, non siamo più nella giungla, non siamo più in un ambiente privo di protezione. Viviamo in un mondo che è stato costruito da noi per noi. Non siamo più in pericolo. Ovviamente i pericoli ci sono sempre ma il disgusto ormai va al di là. Va a diventare quasi moralismo. Va a diventare qualcosa che è giusto così perché perché così. Magari ancestralmente il pensiero si riconduce a qualcosa di sbagliato o di pericoloso ma poi col tempo questa traccia di pericolosità è andata scemando se non sparendo completamente. Quindi non ha più senso dargli tutta questa importanza. E anzi a volte ci ritroviamo ad essere maleducati offendere altre persone i loro sentimenti e essere visti come menteletanti che antiquate. Ed è vero. Riusciamo quindi ad essere contro natura vogliamo dire così. Contro quel senso così insito in noi che poi ragionandosi logicamente non è altro che un rimando a qualcosa di molto molto vecchio che non è più presente attualmente. Non è più così. Perciò mi dispiace per voi che assumete dei comportamenti e assumete che gli altri debbano attuare agli stessi comportamenti vostri e li criticate perché per voi è appunto a favore di natura perché come alibi non tiene completamente siete soltanto maleducati oppure ignoranti stupidi quello che volete voi. Ah un'ultima chicca che mi stavo dimenticando di mettere in mezzo è anche il motivo per il quale le donne incinta o incinte provano un disgusto maggiore verso alcune cose hanno dei sensi più sviluppati perché devono stare più attente a ciò che fanno a ciò che mangiano a ciò che alle persone che all'ambiente in cui si trovano e quindi riescono a riconoscere meglio se qualche cibo è andato a male è molto più di un'altra persona che non è in gestazione benissimo ragazzi il video finisce qua spero vi sia interessate qualcosa di particolare era un rimando diciamo al primo video quello sul distanziamento sociale per spiegare il perché noi sentiamo proviamo questa sensazione e magari associamo in natura associano il disgusto a qualcosa di pericoloso e è come non l'abbiamo trasformato nel bene o nel male va benissimo ragazzi io vi ricordo di nuovo di iscrivervi cliccare sulla campanella mettere il mi piace andare a vedere i libri che vi interessano nella filiazione Amazon c'è la scimmia nuda oppure tantissimi altri prodotti che vi interessano e io vi ricordo di soddisfare il vostro fabbisogno comportamentale noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao